Buongiorno a tutti, vediamo oggi il termine underdog. Underdog indica il giocatore sfavorito e si usa in circostanze diverse. Ad esempio può essere il giocatore sfavorito anche prima dell'inizio del match in quanto l'avversario è più forte. Oppure può essere durante il match il giocatore che è in svantaggio nel punteggio. In questo caso si chiama anche trailer. Infine nel caso di un game l'underdog è il giocatore che sta peggio in quel game per cui è sfavorito non tanto per la vittoria nel match ma per la vittoria nel game. Quindi il termine si usa in circostanze diverse ma sempre indica il giocatore sfavorito. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.